cari amici di mille un'avventura eccoci di nuovo a un tg1001 il tg in cui mostriamo quello che abbiamo proposto sul canale nell'ultima settimana e anche tanti video di tanti canali a cui sono iscritto e che possono magari interessarvi iniziamo subito con le nostre produzioni il primo video della settimana aveva a che fare con unity nell'asset store di unity era stato regalato questo cavaliere col cavallo e abbiamo provato a vederlo all'opera in unity poi siamo passati a parlare di programmazione con l'intelligenza artificiale abbiamo provato codeium questo sistema che suggerisce codice mentre abbiamo provato a andare avanti nella nostra avventura testuale creata in javascript tra l'altro la prossima settimana avremo codeium con chat gpt4 e vedremo se riusciremo ad avere delle istruzioni dei suggerimenti ancora più validi siamo poi passati a un video che ha riscosso un incredibile successo 2002 visualizzazioni tre giorni fa almeno fino a questo punto perché continuano a crescere un cad tridimensionale sul commodore 64 davvero una cosa particolare e andatelo a vedere se ve lo siete persi così aumenteranno ancora di più le visualizzazioni ovviamente iscrivetevi anche al canale se non l'avete ancora fatto poi iniziate una serie di tre video su autocad o meglio due video su autocad uno riguarda questo mio ritorno su autocad dopo 30 anni visto che ci avevo lavorato negli anni 90 sono andato a vedere autocad 2024 se è cambiato e come funziona ma poi sono andato anche a rispolverare un mio vecchio programma in autolisp il linguaggio di scripting di autocad e abbiamo provato a vedere se funziona ancora anche su autocad 2024 dopo tutti questi anni l'ultimo video animal game che cos'è è un gioco diciamo degli anni 70 più che gioco un programma degli anni 70 dove si crea questa sorta di intelligenza artificiale in cui il computer riesce a imparare dai propri sbagli una cosa davvero geniale per l'epoca ora molto inflazionato ovviamente ma che è stato interessante rispolverare grazie a un suggerimento di un iscritto c'è stato anche un gameplay di fortnite visto che è partita la nuova stagione ma ve lo sarete ovviamente goduti in diretta e ora siamo arrivati alle nostre iscrizioni ai video dei nostri iscritti alcuni e anche video a cui sono iscritto vedo qui anche un video di ciccio gamer 89 che non vi consiglio perché non ne ha bisogno visto che è sui 4 milioni di iscritti ma prima di vedere i suggerimenti sigla come di consueto il primo canale che vi suggerisco è di mister inter 13 ultimamente ha pubblicato una partita noiosa su fortnite ancora vecchia stagione ma l'ultimo video riguarda un una coppa serie a che non è la serie a quindi ha impostato tutto un torneo e ha visto come evolveva nel simulatore dfc 24 altro canale che suggeriamo giochi dall'altro mondo sempre gameplay molto interessanti che riguardano soprattutto il retro gaming e qui abbiamo the battles of usagi yojimbo quindi un gioco per commodore 64 che potete andare a recuperare sul canale di giochi dall'altro mondo interessante archeologia informatica che di solito parla di retro computing cose di questo genere però hanno lanciato assieme a francesco sblendorio questo corso di basic l'episodio 0 perciò si sono lanciati anche a altri in altri format diciamo più che retro gaming anche corsi di basic in questo caso sul canale di micro studio micro studio è questo programma online per creare videogiochi c'è anche la versione offline ovviamente l'ho portato sul canale diverso tempo fa mi riprometto sempre di tornarci di creare qualche piccolo gioco poi non lo faccio mai però è davvero molto interessante c'è anche la versione o meglio la possibilità di creare giochi multiplayer quindi davvero interessante come sistema e ci hanno proposto questo video su music power up come realizzare con micro studio un mixer un sintetizzatore sonoro poi c'è every eye.it non ha bisogno di presentazioni tantissimi iscritti si occupano di videogiochi soprattutto moderni e qui c'è purtroppo la notizia di akira toriyama che purtroppo è morto all'età di 68 anni e qui lo ringraziano per la sua arte perché ha ispirato anche i videogiochi di vario tipo con questo suo stile particolare poi omotenashi anime rimaniamo sempre in ambito giapponese questa volta qualche notizia un po meno tragica ovviamente omotenashi anime ci ha portato queste quattro figure primavera estate antunno inverno come sapete omotenashi anime è un canale che si occupa soprattutto di action figure ma anche di sake e di cultura giapponese perciò se siete appassionati non potete non iscrivervi al suo canale abbiamo poi alessandro scola tech blog ogni tanto esce un video non molto di frequente vedo però questa volta ci spiega come inventare password complicate e soprattutto ricordarle perciò una cosa particolare che può essere sicuramente utile c'è isac garcia garcia peveri che ci ha invece portato un video andiamolo subito a vedere qui come le app legacy funzionano con dos box approvato quick pascal approvato a vedere se era possibile riuscire ancora a utilizzarlo grazie a dos box indie gameplay ita altro canale che non ha bisogno di presentazioni che porta tantissimi gameplay anche di giochi italiani anzi vedo per esempio questi che mi sono consigliati sono tutti giochi italiani indipendenti e qui vediamo per esempio ecco invece qui ma è in italiano ecco non giochi italiani perché in questo caso c'è un gameplay di l divers 2 il gioco del momento perciò si è cimentato anche in questi queste partite frenetiche di l divers 2 che è un gioco davvero che sta riscuotendo notevole notevole successo abbiamo poi keno bisbok productions anche qui un canale che ha tanti iscritti quindi non ha bisogno di presentazioni ma qui c'è un video dove torna francesco sblendorio praticamente è stato ospite su archeologia informatica su keno bisbok e qui ha parlato del commodore 64 perciò ecco si sta inflazionando l'immagine di francesco sblendorio game from scratch tantissimi iscritti se vi interessa lo sviluppo di videogiochi dovete iscrivervi sicuramente a questo canale per tutte le notizie che propone e di solito ci propone anche gli assets gratuiti che l'unreal engine nel suo marketplace propone mese dopo mese se ve le siete persi andatevi subito ad accaparrare non penso che farò un video su questo perché non ci sono assets che mi interessino più di tanto però esistono e quindi accaparrateveli anche voi se non usate l'unreal engine in ogni caso potrebbero tornare utili il canale di riccardo masini che si occupa di wargaming quindi i giochi da tavolo con le pedine con tutte quelle regole complicatissime che simulano vere battaglie questa volta è andato sul campo di battaglia e ci ha portati a scoprire questo luogo in cui nel dicembre 43 si è tenuta una battaglia e andate a scoprire di che cosa si tratta sul suo canale e infine anche se ne avevo parlato durante la settimana a me non mi sembra agpx net ha prodotto un nuovo video la settimana scorsa in cui mostra come si può ottenere sul nostro amatissimo commodore 64 lo smooth scrolling orizzontale pensavo che fosse più difficile invece a quanto pare è più semplice dello scrolling verticale ma probabilmente perché qui lo scenario è uno scenario limitato un campo di calcio e non invece una pista che è molto lunga che si sviluppa in verticale in un gioco di corse bene questi sono solo alcuni dei video che i canali a cui sono iscritto hanno proposto tutti questi canali ne hanno creati anche altri perciò andateli a scoprire se non siete iscritti e se ve li siete persi a me non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con tanti altri nuovi video e per il momento quindi vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci si vede in un nuovo video in una nuova diretta visto che è uscita la nuova stagione di fortnite devo provarla comunque per adesso ciao a tutti ciao a tutti